Tutti da un salvatore, grandissima sorpresa, eccomi con... Luca Peracino, è la prima intervista selfie che faccio nella vita. Ah ecco, c'è sempre la prima volta. Allora, salutiamo tutto il web. Ciao a tutti, tutto il web, tutti quanti. E ricordiamo adesso, lo vedrete prestissimo, un nuovo film. Un patrimonio del surf, esce il 12 novembre, andatelo a vedere perché è il film più bello della storia del cinema. Ricordiamo tutti quei canali, che ne ha tantissimi. C'è la pagina Facebook Pampers, c'è la pagina Facebook Luca Peracino, c'è Instagram di Pampers, c'è Twitter Pampers Official, c'è YouTube Pampers Tube, c'è mia zia che si chiama Carmela. E la salutiamo. Ciao Carmela. E basta. Ciao tutto il web. Ciao, grande salvatore, lo sono detto da soli, grande Luca, ciao.